Una ferita aperta, un vulnus che però si dischiude sulla bellezza dell'arte italiana, piegata dalla pandemia, confinata in sale, a cui l'emergenza sanitaria vieta l'accesso. L'idea è stata sviluppata dall'artista francese G.R. a Firenze, con un'installazione site specific sulla facciata di Palazzo Strozzi. Quando mi hanno proposto l'interno e l'esterno, è vero che ho preferito concentrarmi sulla creazione di un'opera molto grande che sfruttasse davvero tutto il palazzo, ma all'esterno. Si dà il caso che da una settimana è ripresa la chiusura anche in Francia, da domani. Quindi questo è un messaggio che purtroppo arriva in un momento in cui abbiamo bisogno di un'apertura sui musei. La ferita, questo è il titolo dell'opera, mostra in metafora artistica il porticato rinascimentale, la biblioteca e le sale che custodiscono gioielli come la Venere del Botticelli o il Ratto delle Sabine del Giambologna. La scelta di creare un'opera visibile a chiunque sulla facciata di Palazzo Strozzi diviene un invito a ritrovare un rapporto diretto con l'arte. Si tratta di un'installazione di arte pubblica, quindi vogliamo, in un momento in cui è impossibile l'accesso alla cultura, andare noi verso le strade, verso le piazze, portando la cultura fuori dal museo, visto che il museo è chiuso. L'installazione rimarrà visibile fino al 22 agosto. Perfetto, grazie!